In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo che caratterizzeranno questo fine settimana, ci puoi spiegare come si presenta la situazione attuale del tempo? Il moderato afflusso di aria fredda che nelle ultime 24 ore ha interessato la nostra regione va rapidamente attenuandosi grazie ad una nuova espansione dell'alta pressione su tutto il bacino del Mediterraneo. Alta pressione che nel corso di questo fine settimana si consoliderà ulteriormente garantendo condizioni di stabilità con temperature in progressivo aumento. Cosa ci attende invece per questo fine settimana e quindi per le giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio? Per sabato 22 febbraio avremo condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Qualche banco di nebbia potrebbe interessare le aree interne di pianura nel corso della notte e al primo mattino. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, senza variazioni di rilievo, le minime della notte, venti deboli settentrionali e mare quasi calmo. Poche variazioni anche per domenica 23 con tempo stabile prevalentemente soleggiato ovunque, temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, venti deboli settentrionali tendenti a disporsi da ovest, mare poco mosso. Puoi fornirci anche dei dettagli sulla tendenza che caratterizzerà la prossima settimana? Lunedì l'alta pressione raggiungerà il culmine supportata in quota da un promontorio di natura africana. Dunque ci aspettiamo un ulteriore aumento delle temperature con valori massimi che potrebbero superare localmente i 20 gradi centigradi. Una situazione destinata a cambiare tra martedì 25 e mercoledì 26 per l'affondo di una depressione dal nord atlantico. Dunque dal pomeriggio sera di martedì è probabile un aumento della nuvolosità e un rinforzo del vento da sud ovest con possibilità di qualche piovasco sparso ad iniziare dal settore occidentale della regione. Un'evoluzione comunque che andrà rivista. Pertanto invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it